Anche l'astreamer Paglierò adesso ancora che devo mettere una doppia Vabbè Ehi cazzo da stare Martino Un po' veloce stanno Adesso stanno mettendo le mosse Vabbè Occhio sforzate che mette i pezzi Perfetto Mi stai dicendo che pezzi possiamo lavorare? Che profili possiamo lavorare? Alluminio, pvc Alluminio, pvc Vabbè, ma dimensioni? Ma dimensioni Io penso 80x80 No? Anche più grandi Anche più grossi Qua è la peglione con 100 mila Il pelai Esatto L'altanta Anche 100% Anche 3 mila per 3 mila Vedi? Qua è che sto passando tutti i pezzi Occhio sforza Al secondo Grazie.